buonasera ciao leggente vi ricordo che questo sarà uno dei tanti episodi che affronteremo in modalità podcast quindi mettete via il vostro telefono, ipad, computer con il quale stai ascoltando mettetelo da parte, cominciate a fare altro e buon video salve gente bentornati in questo nuovo video, oggi andremo a analizzare quali saranno secondo me i 5 mazzi migliori che troveremo nel prossimo formato vi ricordo che però questa settimana se il vostro contributo sarà costante e attivo porterò un video settimana questo infatti è già un video aggiuntivo, infatti di solito il martedì non escono video ma visto che ci siamo avvicinati molto alla soglia che avevo detto per eventualmente far uscire il video anche il martedì ho deciso appunto di portarvela lo stesso perché siamo praticamente molto attaccati nel momento in cui sto registrando questo video detto ciò avete deciso voi che video portare quindi avete scelto voi questo video dei top 5 mazzi e per fare ciò e per essere molto più partecipativi all'interno comunque del canale vi invito a entrare nel gruppo telegram nonché a iscrivervi per così poter aumentare anche il numero della programmazione settimanale per chi non lo sapesse i video escono lunedì, mercoledì e venerdì ma se raggiungiamo un tot di quota di iscritti settimanali potrebbero anche entrare due ulteriori video il martedì e il giovedì ovviamente i video li sceglierete voi comunque domani il video di mercoledì è comunque garantito vediamo se raggiungiamo la quota di iscritti fissata per giovedì per far uscire eventualmente un altro video aggiuntivo detto ciò ho già parlato abbastanza cominciamo con la top 5 top 5 che in realtà ho trasformato in una top 6 perché ci sono due mazzi di cui vorrei parlare che stanno effettivamente al quinto posto il primo mazzo di cui voglio parlare è sprite o meglio il primo engine di cui voglio parlare è sprite sprite secondo me potrebbe diventare un engine molto molto forte e rimanere comunque su un ottimo range di giocabilità infatti secondo me tanta gente non abbandona il mazzo anzi anche perché con carte come la neemone come il buginski e altre cose si può comunque avviare al reborn di elfa ok molto meno follow up e soprattutto non tirano i targettabili mostri che era effettivamente la cosa che è molto ma molto forte in elfa più che il reborn il fatto proprio di rendere intargettabile tipo simor e anche simor che era stato bannato effettivamente non solo perché portava statua ma perché rendeva appunto intargettabili le carte sotto di lui a cui puntava quindi diciamo che leggermente fortina questa cosa di togliere l'intargettabilità alle carte perciò io penso che sprite verrà effettivamente giocato come engine dentro mazzi come tribrigade perché forse è il mazzo che ne abusava meno effettivamente di elfa di mazzi come giski perché comunque penso che la combo la possa fare lo stesso da quello che ho visto in mazzi come runic che vabbè lo usava come principalmente engine ma spoiler runic ci sarà e sarà posizione più alta perché secondo me è un ottimo mazzo ma ne parleremo dopo o comunque tutti quei mazzi che spavano livelli 2 ma che non abusavano effettivamente del reborn di elfa lo usavano semplicemente per proteggersi dal target o per rebornare un pezzo magari fanno un qualcosa in meno sulla combo ma con l'adattamento a delle end trap o comunque con un end board che magari con un negate in meno cosa che comunque non è incredibile perché ne mette talmente tanti sprite con tutte le varie engine che fa che un negate in più un negate in meno magari non cambia troppo comunque io sprite lo vedo comunque un mazzo molto molto forte come voglio segnalarvi e queste qua sono le sprite e appunto il prossimo mazzo che voglio dire sono quei due mazzi che secondo me potrebbero in questo formato fare un po' dagli underdog che però potrebbero veramente far molto bene io vi segnalo drytron per il semplice motivo che valo lo sta testando ci ho potuto giocare contro e devo dire che il mazzo performa molto molto bene ora gli shizu non ci sono più soprattutto non ci sono più questo incredibile spam di bestial anche se poi ne parleremo perché terelements l'hanno ucciso e spoiler non ci sarà in questa classifica qui perché lo trovo un mazzo sì comunque molto forte ma che ha bisogno di engine che sono un po' mediocre almeno per ora e quindi diciamo che se dovessimo fare una classifica è appena sotto ai mazzi che menzionerò oggi non è comunque completamente morto secondo me però bisogna trovare il modo giusto di giocarlo e almeno all'inizio secondo me potrebbe non performare al 100% comunque stiamo parlando di drytron non ci sono più i bestial che erano il counter principale per drytron almeno ci sono molti meno bestial e drytron ragazzi può fare ftk cosa intendo con drytron può fare ftk purtroppo con l'uscita di questa carta qua che vi metterò che adesso si chiama dynamond si può fare un rituale di cui ora non mi ricordo il nome ma cercherò la foto perché vallo me l'ha fatto e praticamente è riborato nel turno dell'avversario lui si tributa di costo e non fa attivare effetti dei mostri all'avversario ok ftk in che senso non può attivare effetti dei mostri ma praticamente skip turn per il 90% rimasti poi ovvio sei contro il runic proprio se non sbattere e continua a giocare ma nel 90% dei casi il gioco si basa sui mostri ancora quindi diciamo che potrebbe essere relativamente molto forte questa cosa di fare questo specie di ftk tra l'altro è anche abbastanza consistente perché lo fai da due carte forse forse con drytron anche da monocarta ok magari non fai la board della vita come faceva di solito drytron però tra la board che puoi fare prima con le negazioni e tutto quello che hai puoi fare ancora il ruler che è comunque molto forte puoi ancora fare appunto questo ftk tra molte virgolette ftk e comunque lo vedo un mazzo abbastanza performante nel formato tenetelo d'occhio soprattutto fatelo perché è un mazzo che relativamente non costa tanto a parte le nova che però potrebbe rendere molto molto bene attenzione ai mazzi rituali perché stanno uscendo tanti di cui supporto i veri mazzi rituali tra l'altro anche Libro Master Mikannk è un ottimo mazzo anche questo forse non è la top 5 però un pelino sotto al quarto posto metto Swordsoul perché metto Swordsoul al quarto posto e non lo metto più in alto? lo metto al quarto posto perché ha un incredibile problema secondo me in questo formato ha un incredibile problema in questo formato che è la presenza di D-Warrior perché indico la presenza di D-Warrior? ma come? Ma Castira e Despia anche loro muoiono da D-Barrier? sì è vero ma il problema di Swordsoul è che non ha le power play che ha Despia e Castira Castira nel senso Despia e Castira vanno primi vincono vanno secondi G-D-Barrier perdono ma poi ti mandano G3 e G3 lo vincono Swordsoul invece non è sempre detto non ha la consistenza per dire che ha Brandon Despia o Castira che fai una giocata e ti entra per forza parti con una mano storta con Brandon Despia comunque qualcosa lo riesce a parecchiare sul tavolo Norman Moyet rivela o trappola perché non ha gli extender in mano in permanence seti la trappola e passi e quindi per ora non lo vedo neancora il mazzo top tier però comunque sicuramente un ottimo mazzo guardano tantissimo e altro piccolo problema si giocheranno in Lava Golem anche qui se si giocheranno in Lava Golem il mazzo comunque farà comunque più fatica rispetto ai tre mazzi che ci sono sopra e quindi io lo vedo a un quarto posto comunque recupera tantissimo perché non ti fanno più Grave Control o almeno non te lo fanno così spesso il fatto di giocare con Spacchini è la cosa più forte che può fare il mazzo Rimbalzini, Spacchini quindi relativamente il controcash tira non è così impossibile perché si può giocare tranquillamente non tutte le carte hanno bisogno di andare al cimitero infatti si giocava anche Shifter ogni tanto su Sword quindi diciamo che può essere un buon matchup effettivamente magari non è un matchup super positivo ma ce la si può giocare non è così disastroso il problema sta nel fatto che secondo me tra i mazzi che ho citato adesso quindi Sword Soul, Drytron e Sprite e il terzo c'è veramente tanto distacco perché bisogna essere effettivamente oggettivi e secondo me c'è tanto distacco tra quello che è Sword Soul che forse è il miglior mazzo T2 che c'è al momento insieme a quelli che vi ho detto forse può competere con Sprite però Sprite bisogna prima trovare la versione eccetera eccetera quindi nell'immediato forse Sword Soul e poi c'è tanto distacco tra quelli che secondo me potrebbero essere i 3T1 del formato perché secondo me non ci sarà un T0 e al terzo posto infatti vado a mettere Runic Runic è veramente forte in questo formato perché come ho già detto non perde da tantissime staple del formato non perde da la nuova TTT e quindi neanche da TTT vecchia perché non attiva effetti di mostri quindi muore con la carta non muore da Despia perché comunque Despia ha bisogno di affrontare game con un avversario che mette cose sul tavolo e non che mette maggiori trappole infatti non ha così tanti back row removal di main almeno e quindi secondo me Runic può essere veramente veramente una soluzione molto forte per il formato se non forse andare anche verso il best deck ora mi starò sbilanciando perché secondo me Runic ha dei problemi di consistenza e ha dei problemi che con le mani della vita puoi fare delle determinate cose senza mani della vita no poi Runic Stan si sta parlando ovviamente di questa versione secondo me è la versione più forte perché comunque può mettere Float, Gate, Rob del genere che possono sempre dar fastidio con determinati matchup o comunque giocando tipo contro Castira a rigor di logica Castira, Unicorn, Skill Drain la Castira ti rimane, ti passa con Unicorn magari ti bitta ma tu poi lo spacchi e continui a fargli bandire le carte dal mazzo e lo fai finire perché alla fine è quello o se no puoi benissimo fare Majesty non puoi evocare Special e Castira ti guarda e te la concede anche perché tutte le staple che si giocano dentro i mazzi quale Ray Jacky, Libro della Luna tutte quelle carte già come ho detto prima questo mazzo qui come ho detto prima non le soffre e quindi questo lo avvantaggia molto anche perché post side è difficile trovare effettivamente una soluzione a Runic che non siano i Cyclone o le Storm o le Evil League che però in più di 3-6 copie di side non le vedi contro magari le 9-10 carte che puoi giocare sia di main sia di side per andare contro i top mazzi del formato però io continuerò a mettere questi due mazzi sopra anche se Runic comunque secondo me è un mazzo veramente veramente forte bisogna starci attenti quindi sopra metto Castira Castira lo metto al secondo posto perché sono convinto che Castira sarà una delusione una delusione non sono il primo che lo dice e non voglio neanche essere quello che dice secondo me Castira fa cagare ci sono tanti altri che lo pensano e io sono d'accordo con tutte queste persone qua ho visto diversa gente che ha fatto altre top 5 anche delle tier list e cose del genere e mi trovano d'accordo ma io vi dico la mia opinione è sempre stata così secondo me Castira non sarà il top deck del formato per il semplice fatto che perde da troppe carte e la gente ci sta preparando talmente tanto bene ad affrontare questo mazzo che alla fine ignorerà completamente Despia e Despia diventerà il mazzo più forte del formato perché Despia perderà molte meno carte rispetto a Castira allora partendo tenendo in considerazione che Castira muore da Boardbreaker muore dai libri muore dalle Iveli deve attivare per forza effetti in un altro turno quindi prende le TTT varie eventuali adesso la gente sta addirittura giocando solamente uno Zeus in Inside perché cosa fa? vede la TTT o quella nuova o quella vecchia se vede quella nuova si ha la TTT vecchia essendo che non ha appunto negate Castira tira la TTT ruba il mostro che vuole picchia ci fa Zeus quindi non te lo restituisci neanche spara uno Zeus ti svuota il campo si fa le sue robe e tu hai perso questo è Castira e quindi diciamo che non è che mi piaccia troppo o se no si gioca contro il mine per prenderti il controllo eccetera eccetera e mono Zeus su field vuol dire liberarsi di Castira appena fa qualcosa semplicemente questo quindi state molto attenti ragazzi a Castira state molto attenti soprattutto a cosa mettere di side perché Castira in realtà non è così difficile se sapete gestire il mazzo detto ciò Castira comunque è un mazzo molto forte ti guarda l'extra te lo banna ti va nelle carte coperte non è un facile matchup ed è comunque un mazzo che è incredibilmente forte e abbastanza anzi molto consistente perché è difficile che bricchi è vero perdere a board break infatti io non capisco sinceramente io non capisco perché la gente non lo gioca con Brave Token giocandolo con Brave Token hai l'omni negate che ok magari non ti può far parare dalle otto negazioni dalle otto carte going set quindi ti possono tirare ma se il tuo avversario molto banalmente non parte bene perché non sembra può partire bene se tu muori anche da un mono interruption semplicemente un control mine che ti ruba il mostro e ti fanno Zeus sopra perché tu giocatore non ti metti Brave Token per negare almeno quella cosa là che dici magari non tutte le partite riuscirò comunque a portarle a casa con un solo omni negate ma magari il mio avversario bricca perché devo perdere quel game là perché non ho messo un omni negate per un engine che comunque ci entra anche bene perché sia il grifone sia l'illegal knight mal che vada sono livelli 7 io questa cosa qua non la capisco sinceramente e poi giocatore di castira se ne ha qualcuno tra i follower spiegatemi questa cosa qua io secondo me sono per giocare reparto per il token sarò pazzo io può essere magari bricca troppo magari diventa inconsistente ha giocati più forti ha bisogno di flexpot eccetera eccetera però ragazzi io la penso in questa maniera qui poi il mazzo sinceramente l'ho guardato giocare non mi piace non mi piace proprio la meccanica non mi piace e non lo so non capisco come effettivamente e il perché non si giochi il reparto breve poi sarò io che sbaglio molto probabilmente sarò io che sbaglio perché non conosco il mazzo però è una domanda che mi faccio spesso detto ciò comunque è un mazzo veramente fortissimo anche perché soprattutto post side può permettersi di judgment tutte le cose che vanno a distruggere eventuali magie primo posto Brandy Despia Grey ne sarà assolutamente felice o spaventato perché comincerà a girare le hash ma molto di più ma secondo me è un mazzo incredibilmente forte e sta ricevendo soprattutto supporti su supporti non è più hash su Bandit Fusion passo perché comunque può fare altre giocate grazie ai Bistial grazie ai Despia grazie ad altre cose quindi è comunque un mazzo che se la cava molto molto forte l'Ubellion ha raggiunto dei prezzi incredibili tra l'altro ve lo segnalo 80 euro a coppia in Italia sono una follia sono una follia e ci sono tipo tre venditori che ce l'hanno quindi se lo avete e la giocate per giocare un Drago Link pendetelo perché 80 euro su Lubelli non è follia può giocare i Bistial che relativamente tirano un ottimo matchup contro tanti mazzi del formato tra cui anche su Warzone secondo me può perdere dei Bistia contro Drytron perché Drytron comunque secondo me può dire qualcosa è forte contro Sprite perché comunque Sprite ok adesso non ha più reborn al cimitero ma comunque Smash e roba del genere li può comunque girare e quindi sì può giocare di Bistia che comunque sono sempre un ninja in forte anche semplicemente per bandirsi roba nel suo turno e fare lo spacchino di Baldrick semplicemente neanche niente di troppo incredibile e poi può affondere il turno all'avversario ti prende le robe ai Mirogel che hai sempre un dito in culo da mettere soprattutto il Mirogel è molto forte contro Castilla perché te lo manda via ti spacca tutto e ha la Chimera anche la Chimera è molto molto forte contro Castilla ha un sacco di partenze un sacco di consistenza hanno finalmente tagliato il reparto che mi faceva assolutamente schifo che era il reparto Patchwork perché veramente mi piaceva Cartesia che è una carta fortissima ha un sacco di modi di iniziare il game può chiudere con tante board diverse in base ai matchup relativamente ci sono un sacco di combo quindi veramente non capisco come questo mazzo effettivamente non possa diventare il T1 più forte del formato ha tutto per diventare il T1 più forte del formato e soprattutto la gente non si aspetta che diventerà il T1 più forte del formato perché c'è gente che dice che sarà il T1 del formato ma effettivamente tanti pensano che e giustamente possono pensarlo non sto dicendo che sia sbagliato io potrei anche sbagliare benissimo ma che Castilla sarà il T1 del formato quindi ci stanno provando tutti contro Castilla non tenendo in considerazione effettivamente Despia che comunque è un mazzo che non ha mai subito nerf anzi ha subito solo buff perché gli hanno regalato un sacco di carte e continueranno a regalargliele e quindi state attenti se avete una base Despia o stavate pensando di farvi Despia avete i Bistia per gli giocati in Dragon Link io sinceramente o li venderei soprattutto se avete il Lubellion se no pensarei anche di procurarmi il mazzo tanto è stato ristampato non costa praticamente nulla la Chimera tra un mese verrà ristampata o comunque in caso ne serve una credo e tutte le altre carte sì 150 euro di mazzo ok però è un mazzo che performa veramente molto bene veramente veramente molto bene detto ciò io penso di avervi detto tutto ho la gola che sta scoppiando perché non mi sono neanche ancora ripreso ma amen noi ci vediamo ad un prossimo video vi invito ad entrare nel gruppo telegram a iscrivervi al canale a mettere mi piace così per avere anche eventualmente il video il giovedì e andate nel gruppo telegram per partecipare a sondaggi eventi community cose del genere quindi ok penso di avervi detto tutto e allora io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video saluti ciao